Nuova polemica sul principe Harry. Il duca di Sussex è stato nominato per un premio intitolato a un eroe di guerra americano ucciso in Afghanistan. L, 11 luglio agli ESPY Awards di Los Angeles, Harry sarà insinito del Pat Tillman Award for Service per il suo lavoro con Invictus Games, ma questa decisione ha suscitato non poche polemiche. Tillman era una stella del football americano che rinunciò a un contratto da 3 milioni di sterline per arruolarsi nell'esercito americano dopo l'11 settembre. La sua vita venne tragicamente interrotta all'età di 27 anni quando fu ucciso nel fuoco amico mentre prestava servizio in Afghanistan 20 anni fa. La madre Mary, che ha detto di non essere stata consultata riguardo al fatto che al principe Harry fosse stato assegnato il premio che porta il nome di suo figlio, ha detto al mail la scorsa settimana, sono scioccata dal motivo per cui avrebbero scelto un individuo così controverso per ricevere il premio. Ci sono destinatari molto più adatti. Ci sono persone che lavorano nella comunità dei veterani che stanno facendo cose straordinarie per assistere i veterani. Questi individui non hanno i soldi, le risorse, i legami o i privilegi di cui dispone il principe Harry. Ritengo che questo tipo di individui debbano essere riconosciuti. Gli ESPY Awards, Excellence in Sports Performance Yearly, sono gestiti dalla rete televisiva sportiva ESPN e il Pat Tillman Award è stato precedentemente assegnato a eroi non celebrati. L'anno scorso il premio è andato ai membri dello staff tecnico della squadra di football americano dei Buffalo Bills che hanno rianimato un giocatore morente sul campo. ESPN ha affermato che Harry è stato onorato per il suo «lavoro instancabile» nel creare un impatto positivo per la comunità dei veterani attraverso il potere dello sport, con i suoi Invictus Games. Ma la decisione di onorarlo ha provocato una reazione negativa. Fonti hanno detto al Telegraph che è una «pillola amara da ingoiare» quando il duca di Sussex viene criticato per qualsiasi cosa relativa al suo passato militare e al lavoro con i veterani. L'eredità di Harry su Invictus, le cose che ha ottenuto, questa è la sua vera passione, hanno detto. Questo è lo spazio in cui si sente veramente a casa, è qualcosa a cui tiene profondamente. La reazione ha sicuramente tolto lustro al premio. La petizione. Le prime reazioni sono iniziate dopo che ESPN ha annunciato il 27 giugno che Harry avrebbe ricevuto il Pat Tillman Award per il servizio. Una petizione per sollecitare ESPN a rivalutare la sua decisione ha raccolto quasi 68 mila firme in 10 giorni. Diceva, Pat Tillman ha esemplificato il dovere, l'onore e il sacrificio. Ha rinunciato alla sua carriera di successo nella NFL per servire il suo paese dopo gli attacchi del 11 settembre e ha perso tragicamente la vita durante il suo servizio. Assegnare questo onore a qualcuno che non riflette l'intento del premio né diminuisce il valore e manca di rispetto alla memoria di Tillman. Anche l'ex giocatore della NFL Pat McAfee è intervenuto, dicendo, dovremmo celebrare lo sport. I leader mondiali dovrebbero celebrare lo sport, ma fare qualcosa del genere significa ovviamente cercare di far incazzare la gente. Ha detto che dovrebbero creare una nuova categoria solo per il duca. Che ne dici di una sorta di ESPY per un membro della famiglia reale che non vuole essere chiamato membro della famiglia reale e che ama lo sport. Jake Wood, ex vincitore del Pat Tillman Award, ha poi difeso il principe Harry su TMZ Alive, dicendo, è un principe reale, ci sono cento cose diverse che avrebbe potuto fare nella sua vita dopo il suo servizio nelle Forze Armate Britanniche, ma ha scelto di dedicarsi gran parte della sua vita post militare per aiutare i veterani.